È un gioiello nascosto nel centro di Milano, questo palazzo ottocentesco oggi sede di una scuola molto particolare. Non solo perché qui si studia tra pareti affrescate, ma anche perché questo istituto statale, che ospita elementari, medie e superiori, è uno dei quasi 50 educandati presenti in tutta Italia. Nati come collegi religiosi per l'educazione delle fanciulle, oggi sono scuole pubbliche miste, che hanno conservato però una missione speciale. Non fanno semplicemente istruzione, ma fanno anche educazione. Cioè l'obiettivo non è solo trasmettere il sapere, ma trasmettere anche il saper stare con gli altri. Quindi i bambini o i ragazzi stanno qua tutto il giorno, dalle 8 alle 17 alle 18, e alcuni addirittura dormono qua nel nostro convitto femminile. E stanno qua anche nei periodi in cui non c'è lezioni. Qui fanno anche attività extrascolastiche, come il catechismo, o corsi di musica, di sport, di lingua straniera, oltre all'orario scolastico. E tutto questo consente di vivere come in una casa. Questo educandato ospita anche alcuni licei unici in Lombardia. Un liceo classico europeo che nasce un po' dall'intenzione di intersecare il liceo classico con quello scientifico e quello linguistico. Poi c'è un liceo linguistico ESABAC, cioè mira al conseguimento del doppio diploma italo-francese. E un liceo internazionale spagnolo che è un po' simile all'ESABAC, però italo-spagnolo. Per chi frequenta queste scuole la maturità è più complessa e prevede una prova scritta in più. Nel caso dell'ESABAC si consegue esattamente un doppio diploma italo-francese, cioè l'alunno alla fine ha un diploma esattamente identico a quello conseguito in un liceo di Parigi. E questo viene realizzato anche con degli scambi. Ci abbiamo scambi con l'Australia, gli Stati Uniti e con varie scuole francesi.